La guerra sta dentro la natura umana, è una delle grandi coglionate che continuano a ripetere senza nessuna dimostrazione. La guerra è una scelta, non è mai una necessità. È ogni volta una scelta. Una scelta barbara, una scelta disumana, ma una scelta. Tagliente e diretto. È stato accolto da un'ovazione a Palazzo Gotico, Gino Strada, il fondatore di Emergency, l'associazione di medici che in vent'anni si è presa cura di oltre 5 milioni di persone nelle zone del mondo martoriate dalla guerra. Tema della serata è il diritto alla pace, ma tra i diritti negati, secondo Gino Strada, oggi c'è anche quello alla salute. Questo festival mi sembra un festival di grande ottimismo. Già dare il titolo Le incertezze della democrazia vuol dire che ancora si ha speranza. Forse un titolo più adatto all'attualità sarebbe stato Le certezze della non democrazia, perché siamo veramente in una situazione molto grave, molto preoccupante socialmente. Io parlo di sanità, perché è l'unica cosa che conosco. 9 milioni di italiani non riescono più a curarsi come si deve, come dovrebbero, perché non ce la fanno economicamente. Questa è una tragedia sociale di proporzioni incalcolabili. È una cosa rispetto alla quale è veramente lo spread, come parlare del sesso degli angeli.